L'amministrazione insieme a tutti i cittadini che hanno condiviso questa contrarietà e l'opporsi a una ferita lancinante che sarebbe stata per la città, l'abbiamo fatto tutti insieme, convinti delle nostre azioni, convinti soprattutto di rappresentare la memoria storica della città. Una città che è medaglia d'argento alla resistenza e che ha pagato prezzi pesanti, anche in termini di vite umane, sia civili che mediali, alla lotta di resistenza partigiana e alla lotta di liberazione nazionale. La città non meritava questo spregio e quindi tutti insieme abbiamo protestato in piazza.